Poracci, innanzitutto una comunicazione di servizio. Domani non ci sarà il TG Poro perché seguiremo insieme in live il reveal dell'ultimo personaggio di Smash. Live è a mille e sarà un evento epocale, la fine di un percorso durato quasi tre anni. Ci vediamo a partire dalle 15.30 qui in live sul mio canale YouTube. Passate che ci sarà da divertirsi. Ma sapete chi si è divertito di più? Ovviamente Reggie mentre presentava Wii Sports Resort in quello che verrà ricordato come l'E3 più imbarazzante di sempre. C'è però un pari merito tra i più veloci a riconoscere il gioco. Bravo, Fai Raki, che ha riconosciuto il setting ma si è dimenticato una S su Sports. Quindi bravo anche Alessandro. Commento più creativo? Beh questa volta è stata dura, mi avete fatto spaccare. Tra il citazionismo di My Body is Reggie, Mia Nonna che Usa il VR e Subaru Barak Edition non ho saputo sceglierne uno migliore dell'altro. Quindi bravi tutti. Ora prossima sfida. Il titolo del gioco? Solo risposte sbagliate. Oraci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche senza barba. Ma quanto è ricca la puntata di oggi? Ricca, ricchissima! Ma appunto, tra il reveal di Smash e i rumor su una possibile riproposizione di Metroid Prime e una novità graditissima su PS5 ce ne sono per tutti i gusti ma anche di più. Quindi bando alle ciance. Come al solito prima di iniziare però vi invito a supportare il piano di conquista di YouTube Italia con un piccolo gesto. Anche solo un like fa la differenza e se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche. In descrizione poi trovate il link per diventare dei Poreon, degli esseri mitologici che vabbè lo sapete. Iniziamo! Oggi tante notizie purtroppo non tutte entusiasmanti. E partiamo dalla più dolorosa che purtroppo è diventata una sorta di consuetudine. State in campana perché internet si sta riempiendo di video spoiler su Dread. Aspettare 19 anni per farsi rovinare la sorpresa da qualche simpaticone? Speriamo proprio di no. Quindi mi raccomando evitate come la peste qualsiasi video riguardante Dread. Non è Nintendo a insistere troppo con i trailer promozionali. No, a quanto pare il gioco è già nelle mani degli utenti e non mi sorprenderebbe che fra poco venisse dampato e liccato nei siti di ROM. Quindi fra qualche giorno inizieranno anche gli spoiler su trama e finale di Dread, ben oltre il semplice gameplay. Sarà una settimana lunghissima. Mi raccomando, occhi aperti. O meglio, in questo caso, chiusi. Si parla tanto di Switch Pro e 4K, ma intanto abbiamo la conferma che il primo gioco 8K su PS5 esiste ed è già disponibile. Anche se la console non è in grado di far uscire un segnale a quella risoluzione, almeno per ora. Il team Shinen ha dichiarato infatti che il suo bellissimo The Tourist, che vi consiglio di recuperare per Switch, gira nativamente in 8K a 60fps su PS5, ma poi viene automaticamente downscalato in 4K per produrre un'immagine ancora più nitida e dettagliata. Quando Sony terrà fede all'indicazione presente sul box di PS5 e abiliterà le ultra ultra risoluzioni sulla sua console, Shinen promette di rilasciare una patch che permetterà di attivare l'8K su The Tourist. Ma ora che ci penso? Esistono gli schermi 8K? E ora prendiamoci tutti un attimo per ammirare la cover di Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp, che è un omaggio all'iconica box art del primo episodio su GBA. Mio Dio, che botta di nostalgia. Ok, lo so, il prezzo pieno è altissimo per un'operazione del genere, ma io quando penso al GBA non so resistere. E voi? Esce domani la remaster di Alan Wake e le prime recensioni parlano di un'ottima operazione di restauro. Il motore grafico è stato aggiornato, presenta ancora delle cose non modernissime, ma il colpo d'occhio è ancora oggi incredibile, grazie soprattutto al sistema di illuminazione all'avanguardia per l'epoca. Il gioco è rimasto immutato con tutti i suoi pro e i suoi contro, ma se non lo avete mai provato, l'acquisto per quanto mi riguarda è obbligatorio. Difficilmente troverete un racconto così ben scritto e pieno di suspense come in Alan Wake. Il prezzo poi è budget, proprio poraccio, 29,99 e il link di acquisto lo trovate nel gruppo Telegram delle offerte poracce. Sapete cosa fare. Passiamo alle notizie del giorno. L'ultimo personaggio di Smash è dietro l'angolo. E domani sapremo quale sarà l'ultima sorpresa che Masahiro Sakurai ha in serbo per gli utenti Switch. Che ve lo dico a fare, io sono super emozionato e i recenti tweet del game designer non fanno altro che aumentare a dismisura l'hype che si è generato intorno a questo reveal. Leggendo le parole di Sakurai infatti è chiaro quanto questo evento non sia una semplice presentazione, ma una vera e propria celebrazione di Ultimate, della serie di Super Smash Bros e dei videogiochi in generale. Dal suo profilo Twitter ufficiale Sakurai ha ricordato l'evento aggiungendo che tu sia un giocatore di Smash o semplicemente ti piacciono i videogiochi, non perderti questo appuntamento. Che già di per sé è una dichiarazione molto importante che fa capire la portata dell'evento che andrà ben oltre i semplici confini di Smash. Ma questa viene messa in secondo piano da un altro tweet, questa volta solo in giapponese e tradotto dall'utente Pushdustin che recita Potresti non conoscere il nuovo lottatore o potrebbe essere differente dalle tue aspettative personali, ma speriamo che questo reveal ti piaccia e anche la trasmissione stessa. Mi sono divertito molto nel registrare questo episodio, che dire queste poche righe racchiudono perfettamente l'essenza di Ultimate e l'emozione che ha accompagnato l'aggiunta di ogni singolo fighter. Ci sono stati momenti altissimi, a volte delle delusioni coscienti, ma è stata la strada percorsa insieme ad aver reso Ultimate un gioco epocale dal suo reveal nel 2018 fino ad oggi. E mi aspetto una chiusura degna di questo capolavoro e soprattutto capace di esprimere appieno il genio creativo di Sakurai. E per l'ultima volta aspetto le vostre prediction nei commenti. Ci vediamo domani alle 15.30. Ma nel frattempo imperversano i rumor relativi a Metroid e in particolare al remake del primo Prime. Prime 1. Perché ci sono novità importanti a riguardo e si inizia a formare un quadro sempre più delineato di quello che potrebbe succedere alle avventure in tre dimensioni di Samu Zaran. Se vi ricordate, la scorsa settimana avevamo parlato di come Emily Rogers avesse proposto una versione alternativa ai rumor che vorrebbero la Prime Trilogy HD pronta da tempo per essere pubblicata. Al posto della Collection Nintendo avrebbe intenzione di ripubblicare una riedizione solo del primo capitolo della serie. Ora però le cose si fanno interessanti perché Jeff Grubb, uno dei più ferventi sostentori dell'ipotesi Trilogy, sembra ora tendere più verso la versione della Rogers, dichiarando che probabilmente il progetto che pensava fosse la Trilogy è in realtà la remaster o il remake di Prime. Un cambio di direzione inaspettato, ma che è stato confermato anche da Nate D8, l'insider che per primo ha parlato del Nintendo 64 su Nintendo Switch Online e del possibile rincaro del pacchetto aggiuntivo. Nate ha aggiunto parecchi dettagli alle indiscrezioni. Ad occuparsi del progetto ci sarebbe proprio Retro Studios, che sarebbe al lavoro su Prime dal 2018 e si tratterebbe di un'operazione a metà tra il remake e il remaster. A subire cambiamenti maggiori sarebbe il motore grafico, ora aggiornato alle potenzialità di Switch, mentre il gameplay rimarrebbe sostanzialmente invariato, se non per degli aggiustamenti alla quality of life e al sistema di controllo, rendendo così questa remaster la versione definitiva di Prime, senza però stravolgerne l'esperienza alla base. Per Nate D8, l'annuncio del titolo sarebbe previsto tra la fine dell'anno, quindi probabilmente ID Game Awards, e l'E3 2022, con una data di uscita prevista per coincidere con il ventennale dell'uscita del gioco sul Gamecube, che cadrà nell'agosto del prossimo anno. Voi poracci cosa ne pensate di uno scenario del genere? Avreste preferito dei porting in HD di tutta la trilogia di Prime? O un simile remake, fatto come si deve, solo del primo, può essere un'ottima prepista per Prime 4? E chiudiamo parlando di Sony, perché l'azienda nipponica ha introdotto una novità molto interessante riguardante PS5, ovvero i free trial, le prove gratuite. Si tratta di una funzione per ora attiva soltanto nel Regno Unito, e in Italia non è ancora possibile accedere a questo tipo di demo, ma il concetto lo trovo molto affascinante. Sony proporrà a rotazione delle prove gratuite di una selezione di titoli, e in questo caso si parte con Death Stranding, Director's Cut, e Sackboy, A Big Adventure. Come funzionano di preciso? Beh, semplicemente fino al 28 ottobre si potranno scaricare gratuitamente questi due titoli, e si potranno giocare senza limitazioni, ma solo per 6 e 5 ore rispettivamente. Una volta terminato il periodo di prova, gli utenti potranno decidere se acquistare il gioco completo, e tutti i salvataggi e gli obiettivi sbloccati potranno essere trasferiti una volta pagata la versione completa. L'unico problema? È che il timer si attiva non dal primo avvio del software, ma dal momento in cui si inizia a scaricare il gioco. Questo significa che dovrete mettere in conto anche i quasi 70 giga di file size e di download per quanto riguarda Death Stranding. Mi sa che con le connessioni che abbiamo in Italia, in pochi potranno permettersi queste prove gratuite. Voi cosa ne pensate, poracci? E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani non per un TG Poro, ma per una live, quindi vi voglio carichissimi. Nerdate duro, ma riposatevi. Io sono il Poro Ultimate, Michele Prime, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscene, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Cioè mi sono dimenticato di nuovo come si pronuncia. TRIAL 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 TRIAL